Sì, Ayman urla fino a qua, ha segnato io per fare 2-1. Sì, 2-1. Ecco, sentiremo. Dove è il domo? Non li prende vene così. Lì c'è il campo. Che fumo è quello. Che è la nebbia? Quella che è la nuvola, è una nuvola bassissima. Comunque la nuvola è un scepro, c'è questo così. Davvero bello. E' il tramonto. E' il tramonto bello. Andiamo su? Andiamo su, vabbè. Ma c'è qualcosa su? Ah, è caratteristico, bello. Bisogna. Fai distanza qua. Fai distanza. Fai distanza, amè. Vai più là, vai più là. Mi seguire. chi è Samuele? Ciao! Samuele? Come? Fratelli? Cosa? Cosa? Vabbè? 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 Voglio studiare qui E non ce la fai più Grazie Faci vederci Romeo Cosa? Cosa? Cosa è il giardino Questo è la chiesa Il nome del figlio Oh, il nome di Gesù Non ci rispondono l'ulta la mia e sua ma è stata fare un motica via un mattina vuoi giocare con il giardino c'è la chiesa a campo